Roma, il Sharawi non si l'allenamento a Dubai è intensissimo. Il Sharawi vuole farsi trovare pronto. L'esterno di Mourinho non ha fermato il suo allenamento vista la pausa delle nazionali. Anzi, lo ha intensificato. Come dimostrato nelle sue storie Instagram infatti. Il faraone sta seguendo una intensa preparazione per essere in piena forma alla ripresa del campionato. La squadra avrà sicuramente bisogno di lui anche visti i numerosi impegni che dovranno affrontare il giallorossi. Il personal trainer di Il Sharawi con l'obiettivo di intensificare e portare al massimo la sua forma fisica Il Sharawi si è affidato a un personal trainer. Non uno qualunque, ma un vero e proprio professionista. Lo sportivo in questione è Chris Bowman. Che anche in passato aveva avuto a che fare con numerosi giocatori, curando la loro tenuta atletica. Virgola.